il calendario degli eventi che caratterizzerà la prossima stagione turistica e culturale di Mondolfo Marotta. L'amministrazione alla presenza degli operatori del settore e dei rappresentanti delle associazioni ha illustrato le numerose iniziative tra conferme e novità che animeranno i prossimi mesi. Per il sindaco barbiere sarà l'estate della ripartenza. Un calendario molto importante con tante iniziative con il coinvolgimento di tutti gli assessorati dal turismo alla cultura alle tradizioni locali allo sport quindi tante iniziative a partire d'aprile fino a settembre per allungare appunto anche la stagione turistica. Iniziative nel segno delle due vacanze in una, il nostro logo turistico quindi ci saranno tanti eventi sia a Mondolfo nel nostro centro storico e naturalmente nel lungomare di Marotta. La stagione è già partita alla grande poi sottolineato l'assessore al turismo Davide Caporaletti infatti stanno arrivando tante prenotazioni che fanno ben sperare. Un calendario molto ricco e variegato proprio per cercare di essere più attrattivi possibili per dare ai nostri turisti ecco la gioia di tornare a vivere dopo tre anni di pandemia c'è veramente tanto bisogno di sorridere, c'è tanto bisogno di stare insieme, c'è tanto bisogno di spensieratezza e penso che questo calendario vada proprio in quella direzione. Ad aprire le danze toccherà alla tradizionale sagra dei Garagoi. La sagra dei Garagoi che è arrivata alla sua settantatresima edizione finalmente torna dopo questi due anni di pandemia e stiamo organizzando finalmente di nuovo riportiamo questa sagra importante nel territorio di Marotta quest'anno sarà in piazza dell'unificazione faremo soltanto a sport non come gli altri anni che c'era anche il ristorante ok perché ci avvaliamo poi della disponibilità dei ristoratori ovviamente della zona che noi come tradizioni culinarie insomma andiamo molto bene quindi non ci sono grossi problemi ovviamente anzi e quindi ci sarà questa sagra dei Garagoi che faremo poi quindi con l'asporto ci saranno diversi eventi quest'anno faremo 24, 23, 24, 25 e il 30 il primo maggio. Infatti proprio per quella data abbiamo aggiunto poi due eventi particolari che uno è Bicio che racconterà delle barzellette e poi ci sarà della musica con un gruppo che suonerà che si chiamano i Sambiter scusate l'orchestra che praticamente hanno fanno della musica appunto per per agliettare poi il pomeriggio e ci sarà anche la martinica che girerà per per la sagra e quindi sarà un momento insomma di di festa e di di spensieratezza che finalmente insomma ne abbiamo bisogno. Ad illustrare le altre manifestazioni è il consigliere con delega alla cultura Evan Mattioli. Gli eventi più tradizionali quelli che già facevano parte della nostra offerta negli anni precedenti vedi teatro in piazza presso la piazza del comune di Mondolfo dove ci sarà la possibilità di ridere stare un po' leggeri seguendo le commedie delle principali compagnie teatrali del nostro territorio non solo poi avremo a pro di letterali che tornerà sempre in collaborazione con le associazioni del nostro territorio. Oltre a questo già da maggio dal 18 al 24 maggio avremo il festival internazionale del mosaico grazie all'associazione chiaroscuro. Come novità quest'anno verrà presentata una prima edizione di una rassegna letteraria come un libro all'aperto. Il tema di questa prima edizione sarà leggeri e pensanti. La data del 7 luglio sarà in collaborazione con un'altra rassegna già storica che non a voce sola. Oltre a questo ovviamente ci saranno due eventi altri due eventi che uno dei quali rappresenta una novità. Ad agosto avremo il concerto di una bravissima pianista Irenia Stella e in più a settembre avremo il 25 settembre in occasione della patrona Santa Giustina ritornerà la rassegna, la sedicesima edizione della rassegna Castelli d'aria dove ci sarà la possibilità di valorizzare anche quello che è l'organo storico che è all'interno di Santa Giustina. Quindi queste tante altre possibilità di offerta turistica si aggiungeranno e quindi altri eventi verranno aggiunti nei prossimi mesi. Questi i principali. Grazie!